Ciao a tutti ragazzi, qui è Splash, bentornati su The Guardians. Oggi vi porto un nuovo video su Watch Dogs 2. In questa guida vi mostrerò dove trovare tutti gli ignomi per ottenere un outfit esclusivo abbastanza particolare. Mi raccomando se il video vi è stato utile vi invito a mettere un mi piace, un commento qui sotto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e se volete seguiteci anche su tutti i nostri social. Trovate i link qui sotto nella descrizione. Io con questo vi saluto e vi lascio al video. Buona visione! Ciao a tutti! 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 ! 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